Bella a tutti, raga qui è Miro ed eccoci qua nel video post partita di Bologna-Cagliari finita con il risultato di 1-0 E' finita Ci siamo levati questa partita dalle palle, ci siamo tolti di mezzo la Coppa Italia Una competizione che se si milita in Serie A ha del senso affrontare, ha senso puntarci sopra Quando si milita in Serie B, specialmente nei casi come il Cagliari, ha veramente poco senso puntarci O meglio, ci si potrebbe anche puntare, però puntarci nel senso far vedere che una squadra gioca Noi abbiamo deciso di non puntarci perché oggi non abbiamo giocato perché io mi rifiuto di definire gioco quello che ho visto L'unico spunto, anzi gli unici due spunti positivi che ho visto in questa partita sono stati Curfa Che vorrei vedere molto di più in campo in Serie B e non in Coppa Italia come riserva E Capratossi E ancora mi sto chiedendo il motivo per cui si è uscito Capratossi Se qualcuno gentilmente mi sa spiegare questa cosa, gliene sarei molto grato perché non riesco veramente a capirlo Tant'è che appena è uscito abbiamo preso un'imbucata pazzesca che ha portato poi al calcio d'angolo E il calcio d'angolo che ha portato poi al gol tra l'altro dell'ex praticamente perché Comunque nonostante la deviazione di Hobbert il tiro era di Lico Giannis quindi sarebbe stato assegnato a lui il gol Bene, l'unica cosa positiva è che siamo usciti, non abbiamo fatto tempi supplementari o cose simili Quindi ci siamo tolti subito questa competizione Però questo porta a delle conclusioni palesi Ovvero che non esistono più giustificazioni di nessun tipo Adesso bisogna puntare tutto sul campionato e bisogna puntarci veramente Quindi da adesso in poi saranno ancora di più intollerabili i passi falsi Perché noi dobbiamo puntare a tornare in Serie A Quello è l'obiettivo del Cagliari Dobbiamo puntarci Con i playoff tramite promozione diretta Questo lo lasceremo decidere al caso e anche alle altre squadre Oltre che a noi Però noi bisogna tornare in Serie A Questa è l'unica cosa che conta Riguardo alla partita di oggi ho veramente molto molto poco da dire Cioè se non fosse stato per il tiro di Barrega il Cagliari veramente inesistente Niente ragazzi il video finisce qui Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ripensate E detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video Bella